Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi dei momenti no, in particolare come superarli e qualche piccolo consiglio per ritornare attivi e motivati. Ho deciso di fare questo video perché in tanti mi chiedete spesso consiglio per quanto riguarda la sfera più personale, visto che in tantissimi siete giunti qua sul canale grazie ai video che ho realizzato sulla timidezza, sull'essere introversi, la fine di un'amicizia, insomma tutti questi video un po' più personali vi hanno colpito molto e ogni giorno ricevo tantissimi messaggi da parte vostra in cui mi chiedete appunto dei consigli. La prima cosa da fare che a me personalmente aiuta molto è identificare la causa del periodo no, che cos'è che mi rende così infelice, che cos'è che mi stressa così tanto. È una cosa abbastanza difficile perché spesso quando siete giù di morale, demotivati, infelici, non c'è una sola cosa che vi causa tutto questo stato d'animo, no, la presenza di più fattori esterni che combinati insieme generano proprio il caos. Una volta identificati i fattori che vi generano stress, infelicità, cercate di metterli in fila e di analizzarli individualmente, cercando di capire quali di queste cose possono essere momentaneamente messe da parte, accantonate, quali possono essere definitivamente eliminate e quali invece sono essenziali. Fra queste mi viene in mente ad esempio il lavoro o la famiglia, non sono cose che potete semplicemente rimuovere per sempre dalla vostra vita, sono dei fattori che possono generare in certi casi infelicità e stress su cui dovrete lavorare maggiormente. In generale fare delle liste mi aiuta molto perché mi permette di organizzare, di avere un piano abbastanza chiaro della situazione, mi permette anche di focalizzarmi sulle cose veramente importanti. È inutile secondo me concentrarsi esclusivamente su qualcosa che ti genera negatività e stress. Certo, ci sono delle cose che come vi dicevo non potete eliminare completamente dalla vostra vita, ma se potete cercate di allontanarvi il più possibile da tutto ciò che è negativo e che vi rende per un qualche motivo infelici. Questo non significa scappare dai problemi, scappare dalle responsabilità, da quello che state facendo, assolutamente no. È importante prendersi del tempo per se stessi, per ricaricare le energie, per ritrovare quello che vi spinge, che vi motiva nella vita di tutti i giorni. C'è qualche progetto magari che vi piace, ma siete ad un punto morto, non sapete come andare avanti. È inutile sforzarsi in quella direzione, questo non porterà a nulla. Meglio dedicarsi a qualche cos'altro che coltivi la vostra felicità, la vostra creatività, che vi stimoli in qualche modo, perché in quei momenti ritroverete serenità e soprattutto ritroverete la carica per dedicarvi a quello che vi piace veramente. Allontanare ciò che ci rende infelici in realtà richiede tanta forza, non è sempre la via più facile per ritrovare serenità. Soprattutto non è facile ammettere con se stessi che si ha un problema, che non si è forti abbastanza per reagire, per affrontare un momento difficile, che poi in realtà non è sempre così, perché spesso pensiamo di essere deboli, di non avere la forza giusta per affrontare i problemi, ci sentiamo impotenti di fronte a cose che spesso sono molto più grandi di noi, ma in realtà ragionandoci in maniera abbastanza fredda, che so essere molto molto difficile ed è una cosa che spesso si realizza sempre più tardi, quando ormai tutto è passato, in realtà dentro di noi abbiamo un mondo intero, abbiamo una forza e una carica che sottovalutiamo veramente tantissimo. Questa forza viene fuori nei momenti di maggiore difficoltà, magari lì per lì non ci sembra, perché se è un momento particolarmente difficile, ci sentiamo sconfitti, soli, impotenti, ci crogioliamo un po' nella condizione del perché capitano tutte a me, perché non ho mai un momento di pace, perché non mi funzionano mai le cose, perché non vanno bene, perché non riesco in questa cosa, e tante altre cose simili. Lo so che è duro ammetterlo, ma da una parte fa piacere piangersi addosso, non reagire, cercare di non pensare al problema, di come affrontarlo, perché richiede tanto sforzo, tanta energia affrontare i problemi e reagire alle difficoltà, quindi rimaniamo in questo stato proprio di tristezza. Io personalmente, quando succedono questi momenti, mi chiudo tantissimo in me stessa, e sì, mi lamento che sono da sola, che non ce la faccio ad affrontare le cose da sola, ma sono io la prima a isolarmi dagli altri, perché per me è un metodo difensivo chiudermi in me stessa come proprio fosse un riccio, chiudermi a allontanare il più possibile quello che mi stressa, mi rende infelice, però allo stesso tempo in questo modo, chiudendomi in me stessa, non risolvo quello che c'è attorno, quindi va bene anche piangersi addosso, va bene anche sfogarsi, anzi, penso che sia fondamentale sfogarsi, che sia con qualcuno, un amico, il fidanzato, la famiglia, c'è chi magari va in palestra o fa sport per sfogare tutta questa negatività, questa energia repressa, è molto importante lasciarla andare per poi ripartire, lo so che non è facile, detta così sembra la cosa più facile di questo mondo e anche la cosa più normale, in realtà lì per lì è veramente difficile, però dovete avere bene in chiaro questo, che quando vi succede qualche cosa che vi demotiva particolarmente, che vi abbatte veramente tanto tanto, dovete capire che va bene stare per conto proprio, va bene sfogarsi, va bene sentirsi per un attimo la persona più sfigata di questo mondo, però basta, perché ci sono tante cose che vi state lasciando fuggire, tante opportunità, tanti momenti invece felici, creativi, che potrebbero stimolarvi e portarvi qualcosa di buono. Come dicevo prima, fare liste mi aiuta, quindi anche in questo caso spesso mi ritrovo a scrivere da qualche parte una serie di step che possono aiutarmi in questi casi. Ok, succede qualche cosa di negativo, mi dedico magari una giornata, un'ora, dipende poi anche dalle persone, mi dedico comunque del tempo per lasciare andare via tutta questa negatività. Un'altra cosa molto utile se siete in un momento o no, è riscoprire una vostra passione, dedicarvi a qualcosa che vi piace, che magari può non sembrarvi utile, ma che vi fa stare bene e quindi è utile come. Io ad esempio ho riscoperto nell'ultimo mesetto che mi piace disegnare, non sono assolutamente capace, però mi piace, mi distende, mi aiuta a scaricare lo stress, è un momento per me rilassante in cui ritrovo serenità, ma mi stimola anche a creare qualcosa, quindi stimola la mia parte creativa. Se magari anche a voi piace disegnare o scrivere, vi piace leggere, vi piace suonare uno strumento, ecco, ritagliatevi del tempo, magari va bene anche solo mezz'ora ogni giorno per riprendere in mano quella vostra passione, quella cosa che avevate accantonato, perché secondo me potrebbe aiutarvi tantissimo a rilassarvi, a ritrovare un po' di serenità che vi è essenziale per affrontare al meglio tutte le sfide dei vari giorni. Infine, se siete in un periodo particolarmente noi in cui vi sono successe tante cose orribili una dietro l'altra, quello che io vi consiglio di fare, che probabilmente è la cosa più difficile, è cercare di trasformare tutte queste cose negative in positive, tutti gli svantaggi in vantaggi. Dico che è probabilmente la cosa più difficile, perché quando vi accadono tante cose brutte tutte in una volta, ok, bisogna sempre vedere il buono in ogni situazione, ma, cioè, come si fa? È veramente impossibile, però in realtà se si cerca di magari affrontare il problema uno alla volta, quindi, come dicevo, fare una lista, vedere quali cose sono affrontabili adesso o meno, quali cose potete accantonare, eliminare e quant'altro, cercate di focalizzarvi magari su uno o due fattori che potete invertire, che potete sfruttare a vostro vantaggio. anche in questo caso vi faccio un esempio abbastanza sciocco me ne rendo conto, ma è semplicemente per farvi capire. L'altro giorno ho ricevuto un avviso da un corriere che sarebbe stato in consegna a un pacco. Io non avevo ordinato nulla, quindi non avevo la più palida idea di che pacco fosse, non potevo nemmeno tracciarlo, insomma, mi sono ritrovata a rimanere chiuse in casa tutto il giorno perché il corriere è arrivato alle 6 meno e 10 della sera quindi io ho passato tutta la mattinata e il pomeriggio in casa, non potevo muovermi, non potevo fare le mie commissioni e mi sembrava veramente di impazzire, di perdere la giornata, insomma, è stato un momento veramente terribile però l'essere costretta a stare in casa nonostante fosse bel tempo fuori mi ha permesso di concentrarmi su alcune cose che normalmente mi sfuggono qua in casa. Visto che ero chiusa in casa mi sono messa a pensare alle cose che avrei potuto fare fuori dopo una volta giunto il corriere perché non sapevo che sarebbe giunto a fine giornata comunque mi sono fatta una lista di posti dove andare cose da fare cosa serviva in casa la lista della spesa idee per cose da fare nei prossimi giorni e così via ho cercato di mantenere l'attenzione su cose positive di non concentrarmi sul fatto che non potevo uscire di casa ma su quello che potevo fare in casa un'altra cosa molto utile secondo me soprattutto il giorno d'oggi quando è abbastanza facile aprire instagram facebook qualsiasi altro tipo di social guardare gli altri dire cavolo loro va sempre tutto bene è sbagliatissimo non vi paragonate mai agli altri non pensate mai cavolo lui ha fatto questa cosa io invece no come se il raggiungimento di un traguardo per qualcuno fosse un vostro fallimento assolutamente no penso che non ci sia cosa più dannosa più velenosa che paragonarsi agli altri soprattutto persone che non conoscete perché online le persone vi faranno vedere soltanto la parte migliore di loro non potete pensare di conoscerle veramente al 100% quindi non ha senso paragonarsi agli altri soprattutto pensare che se loro raggiungono un obiettivo uno scopo se hanno successo allora voi non avrete mai successo perché le due cose non combaciano assolutamente ovviamente ognuno ha un carattere diverso reagisce a fronte ai problemi in maniera differente quindi non mi aspetto che questi consigli queste cose che vi ho detto oggi vadano bene per tutti anzi io personalmente quando sono in un momento di difficoltà che mi sento proprio demotivata che proprio una giornata no e ne sono successe mille cose orribili queste sono le cose che mi aiutano ad andare avanti ad affrontare i problemi a reagire e andare avanti giorno dopo giorno quindi spero che questi consigli possano essere utili almeno a qualcuno di voi mi raccomando fatemi sapere qua sotto nei commenti quali sono le cose che aiutano voi non c'è nulla di male nel prendere ispirazione dagli altri avere una figura di riferimento che vi stimoli a creare magari se siete in un periodo o no in un momento di particolare difficoltà quali sono le cose che vi aiutano a reagire che cosa fate voi insomma perché penso potrebbe essere uno spunto interessante per tutti quelli che giungeranno a questo video che leggeranno i commenti in modo da trovare spunti differenti e consigli vari insomma spero di nuovo che questo video possa essere utile a qualcuno io vi saluto e ci vediamo presto con un nuovo video ciao 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 ciao